Petruzzelli, Royal, Showbill, Kismet, Forma saranno questi i cinque teatri di Bari che ospiteranno gli spettacoli della stagione di prosa 2011-2012 del Piccini. Da settembre infatti nel teatro comunale cominceranno i lavori di restauro ma l'obiettivo nonostante l'indisponibilità dello storico contenitore culturale di Corso Vittorio Emanuele è superare i numeri lusinghieri della passata stagione. Non a caso lo slogan ribadito in occasione della conferenza di presentazione che lo scorso anno era il teatro ti cambia diventato cambia il teatro. Per il sindaco Michele Emiliano si tratta naturalmente solo di un arrivederci. Ci sono molti artisti pugliesi, registi, autori, attori, addirittura copioni originali che in qualche modo sono stati estrapolati da talenti locali però tutti di grande eccellenza. Siamo nel teatro con la T maiuscola che ormai si declina però come nel cinema, si declina con l'aggettivo pugliese. Per il presidente del teatro pubblico pugliese Carmelo Grassi la presentazione della stagione di prosa è stata anche l'occasione per ribadire la sua posizione dopo le dimissioni rassegnate in seguito alle polemiche nate intorno alla selezione di alcuni attori. Un gesto che Grassi potrebbe rivedere solo nel caso l'assemblea dei soci prevista a luglio gli accordasse piena fiducia. Se c'è la fiducia piena ovviamente ne prenderemo atto perché una fiducia piena significa che tutti i soci sono contenti di come abbiamo condotto in questi anni questo teatro pubblico pugliese e quindi ne prenderemo atto. Come prenderemo atto anche del contrario.